La Fondazione Foresta Onlus di Padova, da sempre impegnata sul fronte della prevenzione, lancia marroni solidali, una campagna di sensibilizzazione sulle problematiche dell'apparato maschile. Il professor Foresta, ordinario di endocrinologia all'Università degli Studi di Padova, propone per tutto l'autunno un calendario di eventi con l'obiettivo di diffondere il messaggio che la prevenzione nell'uomo è fondamentale ad ogni età. Durante questi eventi, infatti, la Fondazione fornirà informazioni corrette sulle malattie sessualmente trasmesse e sulle tecniche di prevenzione del contagio, sugli effetti negativi degli stili di vita, sulla funzione dell'apparato riproduttivo e, infine, sensibilizzazione ad eseguire indagini di approfondimento. L'iniziativa dunque mira a insegnare comportamenti corretti per eseguire una buona prevenzione. Ai 18 anni, ad esempio, è consigliata l'ecografia testicolare e i test delle malattie sessualmente trasmissibili, con tanto di consulenza e supporto psicologico. Dai 30 anni si aggiunge l'esame del liquido seminale e dei colloqui sui fattori di rischio che portano all'infertilità, mentre dai 50 anni si affrontano problematiche più complesse come andropausa, osteoporosi e disfunzione erettile. Questa campagna è stata addirittura sollecitata a settembre dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi da anni ci siamo accorti di quanto l'uomo sia privo di qualsiasi momento culturale di prevenzione del suo stato di salute. I 5 anni di vita in meno che ha l'uomo rispetto alla donna sono espressione proprio di un incremento di patologie per le quali l'uomo non si fa alcuna prevenzione. Prendiamo l'obesità, prendiamo il diabete, le ipertensioni, le cardiopatie, ma anche i giovani sono privi di questo aspetto di prevenzione. Noi abbiamo visitato circa 15.000 giovani nel nostro territorio, un ragazzo su tre ha problemi del sistema endocrino, riproduttivo e sessuale. Quindi noi stiamo svelando quanto frequenti sono le patologie del maschio per le quali non si fa prevenzione, ma che se si interviene per tempo possono portare a soluzione di molti problemi. La Fondazione Foresta ha appena concluso uno studio che presto sarà pubblicato sulla più importante rivista a livello mondiale nel settore dell'andrologia. La disfunzione erettile predice l'infarto e si associa ad un aumentato rischio di mortalità. Secondo Foresta, scoprire di avere anche una minima disfunzione erettile potrebbe salvare la vita a molte persone e spiega che sta per essere lanciata una campagna di screening per gli uomini. Fino a novembre i controlli saranno gratuiti, basta prenotarli al numero verde che vedete in sovrimpressione, 800 100 123.